al gioco ma saluta salve bella raga è che come ti sei messo che stage il terzo credo fase 1 fase 2 potente per oggi devo vedere la live sperando che non mi lagga perché se mi incomincio a laggare e cominciava e incomincio a muovermi c'è incomincio a svinchiarsi e poi quando di questo la fa per sempre già due a vedermi la live mi dispiace bella raga lasciate letto iscrivetevi ma sto facendo la live ma mica si perché i messaggi ma io sto balletto non ce l'ho ma erica messaggi perché se non mi rompe le scatole per andando scusco tutti lo sono come lo faccio vedere per ora per ora per ora per ora per ora per ora per aspetto 3 punti compra come regalo da nina sergio 12 continuo no dai bella da il fatto che stavo continuando a leggere bellissimo buongiorno buongiorno quale se il pacchetto anche dai ma quanto ragazzo bello dove poi il bello di michael jordan quella di me no ho visto il passale visto lo shock e ho visto diversi però il ballo no persona tu che ci stai guardando scrivici no solo che sia come visto che c'è più la femmina che è già c'è tu che ci stai vedendo la line si va bene scrivete qualcosa in chat ascolta si dobbiamo giocare sono fatto un botto male ma giochiamo sicuramente ma la posso vedere se c'è una schieno giro nel fronte mio dei messaggi no tu non vedi niente lo andiamo ma andiamo andando se non lo può anche risale ma vai a ma ero cambiato un poco di risale io non giocavo da due giorni e non sapevo se oggi ci si è fatto ultimamente non sapevo niente caso mai quando mi vede online nella mattina o se se casomai vuoi entrare oppure chiamami così giochiamo casomai perché io tipo se tu non entravi oggi lobby io pensavo che tutti stavano a scuola e quindi no ma io sono uscito dalla partita e visto che c'è che ha fatto la tedesca online ma capito e fra io ci arrivo proprio alla eh spero io all'entrata proprio vedi c'è gente è importante che non c'è gente c'è uno però non c'è un po' là lo so lo so l'abbiamo fatto apposta e c'è uno solo la botta apposta dobbiamo prendere l'arma oggi da per se ci riesco al primo colpo no non ho un'arma no non ho un'arma caso mai se ne ho conturi di ormai non ci credo a gerusalemme non c'è un'arma ho l'impulso una cosa a terra fa un culo come ti permetti no 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 ok erano giro gli amici bella sono perdente potente uomo mi tieni bro scendini ho sentito qualcuno che muoveva qualcosa si vedeva dai movimenti che quello comunque stava da pc io e quello la con la diva che mi ha ucciso con la potenza però ma prima si vedeva era troppo era troppo vero sì oppure aveva una sensibilità tutto e tutto a mille ma era difficile sarebbe stato troppo difficile 15 band io 3 cd 4 4 4 4 ma vengono io 3 ma aspetta troppo le troppo se me li puoi segnare sono con forza lancia granata è buono voglio come se fosse la prima season eh la season o la seconda season season o season o la seconda season prima o seconda season prima o seconda season eh tu dà che season giochi sai perchè io si possono uccidere gli altri si possono andare a una settimana prima di scrivere la season 2 perciò non è fatto però faccio così se vuoi questa la prendi però due puntini giochi ma perchè premi no mi fa solo imbrogliare oh chi è mi ha fatto cagare sotto questo virtual mi ha fatto cagare un poco sotto ma chi è ma non lo so aveva la voce modificata ha giocato a mossa e tastiera ma scusa infatti mi aveva fatto ma lo vedi eh a me l'ha fatto cagare e lo so no era diverso il fatto ci sono tre persone oh bella raga lasciate le acche rischi vedete spero non scrivo dai io il tempo di vedere non voglio scrivere va bene tu ce l'hai il coso di eh il lo spray di eh due persone del la gemma del 66 del guanto dell'infinito di Toro eh di Toro di Thanos non lo so questo è un film ma le vie non le faccio più le sfide nemmeno io oh no no questa qua è season 2 questa cosa questa cosa è season 2 questa cosa aspetta quello là che ride quello che ride quello che ride eccolo questo questo è imbarazzato si sono due questo lo tengo tengo pure la gemelletta a formare poi c'ho quello là qua io anche così eh non lo trovo eh stanno là qua vai piano se per piano lo trovo ecco questo lol sì questo tengo pure poi c'ho questo poi c'ho questo c'è l'unico posso che non è che non la vera più bello ma infatti no sbagliate io c'ho dal passo 2 cioè dal passo 3 al 9 all'8 ha messo passo non è che mi fa un pozzino e io l'ho preso perché già ripetendo il bacco capito dopo iniziali tenevi ti potevi compri una skin vabbè poi lo sai quando c'è il bac non sai che cosa ci fare te la voglio di scioppa tutto ora vengo 750 oggi escono le sfide arrivo minanazzo 200 vado a 950 e devo conservare perché non devo prendere il piccone e visione quello bellissimo mamma mia quello è strabiliante però io voglio shoppare un balletto che sta da poco è uscito cioè no no deve ancora uscire l'hanno fatto vedere solo gli sviluppatori quello praticamente muove muove i piedi aspetta se lo trovo te lo invio su whatsapp aspetta aspetta io lo faccio vedere 1,50 da me un secondo questo è il balletto bro vai allora te lo condivido e vai a un minuto e trenta a tre minuti e trenta aspetta whatsapp lo invio direttamente nel gruppo e vai a tre minuti e trenta guarda il balletto dove la telecamera con la faccia qui c'è un distributore sta la scar il pompa nuovo epico e la jump che devo prendere la jump lo sai che vai a minuto e 23 no a minuto e 20 1,20 3,20 3,20 scusa 3,20 guarda il balletto alza la voce 3,15 questo è potentissimo è potentissimo che cazzo allora lo sai che allora che ci sta mamma mia è difficile vai a provare a prendere a provare a prendere un gioco a provare a 3 2 1 no vabbè dai tu ce l'hai un po' non ce l'ho e tolgo il medico se lo vuoi portare eh tengo 15 bende a 6 cildini eh tengo 15 bende a 6 cildini eh tengo 15 bende a 6 cildini io ho trovato un pleno camper eh visto come è figo quel ballo lo devo aspettare muoio c'ho 250 ma c'è un gioco eh sì sì tra tra tipo e ho trovato un altro medikit vuoi portare eh no vuoi portare sta qua o il medikit e sta dove sta il distributore comunque tra poco io ho c'ho 250 ma che tra tipo 5 giorni tra le ricompense giornaliere mi danno 300 p-back costa 500 quel ballo sperando che sono le ricompenze giornaliere riserva il mondo ah mi sape il mondo sì sì e mi devono mi daranno 300 p-back e spero che me lo dai me li danno prima che esce il ballo perché se esce il ballo e non riesco a sciopparmelo ci domandano a merda è bellissimo a me piace un botto perché a me piace a me gli balli così però come si fa ad attaccare no ma già attaccata però non l'abbio è già attaccata perché non è questa cosa sta bene no è perché sono a merda sto intendo e che fa perché tu le hai un pigiama le fai sì o un altro distributore epico fermo che c'è allora qui là c'è chi lo silenziano leggendare però non c'è il lanciarazzi silenziata e e come si chiama fanteria epico il lancerà io c'ho il lancio gronate vai facciamo lanciare a genna grano mi tengo la roba sono blu e forse usiamo il raggetto silenziano da un buono buono vabbè mi tengo io invece mi trovo molto con la metrietta nuova ti piace si è forte questa potete sì sì no quell'altra quella sinistra blu quella che c'è mano no una cosa bellissima di questo pass è il è la schifo lo vedi avanti a noi non l'ho stato ma mai l'ho sperato comunque oh ma chi ne ha sparato ah erano due la vedo uno che vuole prendere i maz siamo a due vicini va buono vuoi vedere 36 ad uno all'ember altra argenta attaccato 100 ad uno un'attacento è sta uno qui no 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 ma non è possibile un'attacento ma ci sono buono sono scattato c'è c'è stiamo con l'altra di di non mi spazio copriti l'altra cosa c'è buono vado fatti sono geni da nu mamma mia ma tutti contro di noi ma c'è cosa l'ha mettato non fa un po di 1 v 1 ma ce l'hai tempo no mi faccio 10 minuti di cadere e poi sto te li fai compiti? no no se non è andato a scuola come se li fai compiti? per domani ce l'avrà e se non è andato a scuola? tu con la vita lo capi? e se nessuno c'è andato? minchia mi fai giocare con Sergio? e se ne devo andare troppo e vabbè allora troppo gioco con Luca a 12 ma sei sta a scuola? no non sei sta a scuola aspetta lo spezzi con lo spezzi con lo spavazzo dove andiamo? allenamento no 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 qua è tipo una cosa che ho modificato ce l'ho io ce l'ho io allora no andate a fare qualche basso però il pompa è nuova e la migraietta è nuova ti va bene? si si aggiungo pure le trappole no no senza trappole facciamo solo giù un secondo che metto un secondo che si sta buggando non mi gira ma pure se ti fa girare a destra e sinistra come mi fa girare a destra e sinistra? se ti fa guardare attorno si ok va era un poco bugato ah vabbè la capire eh no 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 non rompere ok va ci sei? ricorda che ho fame fame picchia tutti tra gli umbert vai apri ci sei? ci vedo uno no lo che è giù io uff no 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 non mi piace va a blocarlo tosse guarda la live sono praticamente mi ha fatto cadere sono riuscito non so come tipo 30 3 2 1 Oh! No, sono caduta! E no! Cominciamo dal lino! Vai, ricominciamo! Con la sessia, vediamo! Io e tazzo e tazzo! No! 3, 2, 1! No, sbagliato! No, sbagliato! No, sbagliato! No, sbagliato! No, sbagliato! Ioi, che! No, sbagliato! Ehi! No! No! Inferno! No! Ok, ok. 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 Ok.